Stamani il sindaco di Firenze con una nota dai toni durissimi sconfessa la sua assessora all'urbanistica Cecilia Del Re che ieri aveva parlato della necessità di far arrivare la tramvia fino al cuore del centro storico. Non ho intenzione di riaprire con la mia amministrazione il tema del passaggio della tramvia dal Duomo, scrive Dario Nardella. Quella dell'assessora Del Re è una iniziativa di cui non ero a conoscenza, non condivisa né da me né dalla Giunta e non è presente nel programma di mandato con cui siamo stati eletti, ne è prevista nel POC. Questa ipotesi è definitivamente superata dalla pedonalizzazione di Piazza del Duomo e dalla realizzazione in corso della linea VAX che vede in Piazza San Marco il cuore dell'accesso della tramvia al centro storico valorizzando tutta l'area circostante e collocando il nodo di Piazza della Libertà al centro dell'intero sistema tramviario, ha aggiunto il sindaco. Non ci sarebbero del resto le condizioni tecniche, amministrative e economiche per rimettere in discussione tutte le scelte fatte fino ad ora. Non si torna indietro, si guarda avanti. Non solo sulla tramvia ma anche sullo scudo verde il primo cittadino è contrariato. Nardella scrive infatti nella nota che è noto a tutti che questa soluzione non comporterà pagamento di pedaggi secondo le nostre previsioni ma servirà esclusivamente al monitoraggio del traffico e al controllo dei veicoli inquinanti a cui non è consentito circolare secondo la legge. Di questo progetto se ne occupano gli assessori con deleghe all'ambiente e alla mobilità Andrea Giorgio e Stefano Giorgetti. Su temi così complessi peraltro gli assessori da me scelti sulla base di un principio fiduciario per entrare in giunta sanno che sono chiamati a condividere le riflessioni e le dichiarazioni secondo collegialità e per evitare inutili e dannose letture divisive e ad avere un comportamento leale verso il sindaco e il programma di governo della città che siamo chiamati a realizzare e di cui rispondiamo ai cittadini.